Andiamo a dare la seguente definizione Stavolta abbiamo E contenuto in R F da E a valori in R e x con 0 a un punto di E fa ben attenzione è un punto di E non dico che sia un punto di accumulazione ma dico che deve stare in E quindi la funzione deve essere definita in x con 0 poi dopo facciamo la controprova per vedere se siete stati attenti si dice che F è continua in x con 0 se e solo se per definizione per ogni x maggiore di 0 esiste un digit maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di 10 e x appattiene a E allora F di x meno F di x con 0 è minore di y ovviamente da questa condizione si intuisce una forte parentela con il limite questa parentela adesso la andiamo a specificare sono possibili due casi primo caso x con 0 è un punto isolato di E che succede in questo caso? che io posso prendere un delta se vi ricordate facciamo la figura x con 0 prendo un certo delta e qua dentro non ci capita nulla di E tranne x con 0 x con 0 sta in E quindi che succede? che quando vado a fare la F qua dentro l'unico punto che ci sta è x con 0 e ovviamente quando ci calcolo la funzione sopra mi viene F di x con 0 quindi quando vado a fare F di x meno F di x con 0 verrà 0 che è sicuramente meno di E quindi se il mio punto è isolato in questo caso ogni funzione F è continuo in questo ragionamento la F non è intervenuta in nessun modo quindi nei punti isolati le funzioni sono sempre con D secondo caso x con 0 appartiene a D questa è una ripetizione che faccio per sottolineare già l'avevamo detto questa linea ed è E è di accumulazione vedi in tal caso il limite F continua in x con 0 se solo se il limite per x che tende a x con 0 di F di x è uguale a F di x con 0 è chiaro? è chiaro? cioè F di x con 0 meno F di x con 0 fa 0 e quindi è minore di y quindi quella condizione in questo caso non serve quindi è chiaro che se x con 0 è un punto di accumulazione questa scrittura qua cosa mi dice? mi dice che il limite per x che tende a x con 0 di F di x fa proprio F di x con 0 quella condizione qua mi serviva se il limite di F di x era diverso da F di x con 0 perché può succedere che una funzione in un punto abbia un valore 5 e che il limite magari faccia 7 ricordate l'esempio valore assoluto del segno di x valore assoluto del segno di x fa 1 dappertutto tranne in 0 che fa 0 allora il limite per x che tende a 0 di quella funzione fa 1 non fa 0 la funzione vale sempre 1 in quel punto vale 0 ma il limite vuol dire quando io mi avvicino il limite fa 1 ma se il limite è uguale a F di x con 0 questa condizione qui che ci stava qui non è 0 quindi nel secondo caso cioè se F di x con 0 è un punto di accumulazione e si può fare il limite perché se era un punto isolato non si poteva fare il limite allora limite per x è tende a x con 0 di F di x deve fare F di x con 0 e viceversa cioè la condizione di continuità è esattamente questa quindi nella vostra mente dovete aprire questo combattimento dire che una funzione è continuità x con 0 vuol dire che il limite per x è tende a x con 0 di F di x è uguale a F di x con 0 e ma se x con 0 è isolato se x con 0 è isolato il limite non si può fare le funzioni sono tutte condizioni la definizione formale è questa però si traduce subito in questi casi chiaro fino a qui? adesso vediamo se siete stati attenti vediamo se siete stati attenti allora prendiamo questa funzione qui quindi F di x uguale 1 su x questa funzione è definita per x appartenente a R meno l'origine quindi dovreste conoscere dalle superiori questo dovrebbero averlo fatto tutti anche quelli che non hanno fatto lo scientifico il grafico di questa funzione è l'iperbola equilatera riferita agli assi 1 su x fino a qua penso che il livello delle nostre scuole superiori assicuri questo tipo di conoscenza siamo fino a qua? ok allora la domanda è questa funzione in 0 è continua o è discontinua? ecco la non si pone la domanda x con 0 in E non c'è ci sta in E chi è E? R meno 0 una funzione si dice continua in x con 0 appartenente a E quando dite alle superiori che la funzione è discontinua in 0 non è quella funzione che è discontinua sarebbe discontinua se la volessimo definire in 0 se la volessimo estendere quando la andiamo a estendere allora è discontinua questa funzione qui è continua in tutti i punti del suo dominio 0 non ci sta nel dominio è chiaro mo? no ok si dice continua nei punti del dominio non ha senso forse la domanda se è discontinua o discontinua se il punto non sta nel dominio come faccio io qua scrivere f di x con 0 se f se x con 0 non è dominio non c'è posso scriverlo? no e allora non si vuole la no con questo non voglio dire naturalmente tutto dipende dalle definizioni che vengono date quindi se andate a ricontrollare bene il vostro libro delle superiori in particolare quelle hanno fatto la scena le definizioni saranno date in maniera corretta in accordo con quello che poi viene detto ma siccome è stato detto così allora uno ricorda così ma se io ho dato questa definizione questa definizione quella funzione là è continua in tutti i punti del suo dominio che non in tutto è chiaro? no? ok perciò che se non sappiamo le definizioni non sappiamo di che stiamo a parlare poi un'altra annotazione poi su una cosa avreste diritto di lamentarvi blandamente se vi ricordate all'inizio del corso io ho detto che le domande quasi sempre sono complesse complesse non significa complicate ma sono fatte in due parti quando io dico la funzione è continua o è discontinua? vi ho tratto in inganno perché vi ho dato la premessa o è continua o è discontinua o è discontinua invece no non è nè l'u nè l'a x con 0 non è un punto del dominio quindi non si può ha un senso preciso cioè non è che è stato fatto l'inizio del corso il resto del corso è stato fatto per perdere tempo è stato fatto perché poi prima o poi serve per esempio qua se capire di quella è una domanda complessa che aveva un'affermazione sottostante che l'affermazione non aveva senso allora andiamo a vedere cosa possiamo dire sulle funzioni continue allora chiorema allora siano f e g due funzioni definite su e a valori in r continue nel punto x con 0 allora lambda f più mu g con lambda e mu appartenenti a r f per g sono continue in x con 0 inoltre se g di x con 0 è diverso da 0 allora anche la funzione f su g è continua quindi lambda f più mu g qua lambda e mu ci potete mettere qualunque coppia di numeri reali quindi può essere 3f più 2g f più g f meno g così evito di dire la somma la differenza questa è una si chiama combinazione lineare quindi se due funzioni sono continue x con 0 qualunque loro combinazione lineare è continua inoltre il prodotto è continuo inoltre se il denominatore in x con 0 è diverso da 0 si può fare il rapporto è una funzione continua quindi questo ci permette di dire che quando noi abbiamo due funzioni continue e noi usiamo la somma il prodotto i rapporti il rapporto e le combinazioni lineari per farne altre funzioni se utilizzo funzioni fino a che utilizzo funzioni continue tutto quello che riesco a produrre saranno nuove funzioni con continue per esempio nel momento in cui avremo dimostrato questo direma e sapremo che la funzione x è una funzione continua cosa ne seguirà la funzione f di x uguale a x è una funzione continua che cosa ne seguirà che tutti i polinomi saranno allora cosa mi serve la continuità della funzione 1 che è una costante e della funzione x allora come sono fatti i polinomi i polinomi sono per esempio 7x cubo più 5x quadro meno 3x più allora x cubo è continua sì perché è x per x per x 7x cubo è continua perché sì perché è 7 per x per x 5x quadro è continua sì 3x è continua sì 1 è continua sì allora 7x cubo più 5x quadro meno 3x più 1 è continua quindi quella diciamo da questo terreno per esempio con un piccolo esercizio si dirà che tutti i polinomi sono funzioni contenuti ok benissimo dimostrazione allora se x con 0 è un punto isolato di e la tesi è ovvia punto isolato di e tutte le funzioni sono continue l'unica cosa magari di rapporto si poteva fare sì perché cd con 0 si può fare anche il rapporto solo a tutti i polinomi allora sia adesso x con 0 quindi un punto diciamo x con 0 appartenente a e appartenente a e un punto di accumulazione noi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fa f di x con 0 poi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di g di x fa g di x con 0 quindi il limite per x che tende a x con 0 di lambda f di x più x più mu g di x quanto fa? fa lambda f di x con 0 più mu g di x con 0 che è quello che deve fare per quale lo dico il limite della somma alla somma dei limiti poi le costanze poi le costanze poi il limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x è uguale a f di x con 0 per g di x con 0 perché? quindi il prodotto è una protezione ma abbiamo visto le successioni abbiamo visto le funzioni e vale poi il limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x è uguale a f di x con 0 fratto g di x con 0 attenzione qua qualcuno potrebbe avere dei dubbi perché uno dice ma io so tu mi hai detto che solo g di x con 0 è diverso da 0 io che ne so se quando mi avvicino a x con 0 qua al denominatore mi capitano dei punti in cui g si annulla se potrà fare questo limite? sì perché esiste un delta maggiore di 0 tale che se x con 0 è minore di delta g di x è diciamo e x appartiene a d allora g di x è diverso da 0 cioè il teorema della permanenza del segno vale per le successioni vale pure per le funzioni si fa come al solito o direttamente o usando il teorema se la funzione nel punto di scone 0 valeva g di scone 0 ed era diverso da 0 allora siccome ed era continua allora il limite per x che tende a scone 0 di g di x è uguale a g di scone 0 che è diverso da 0 e quindi esisterà un delta tale che quando sto più vicino a scone 0 di delta la mia funzione è diversa da 0 quindi in tutto un intorno questo rapporto si può fare poi mi avvicino a g di scone 0 e mi fa la scone 0 siccome il limite il rapporto è uguale al rapporto di g si farà f di scone 0 su g di scone 0 quindi non c'è problema se g di scone 0 è diversa da 0 e g è continua in realtà il rapporto si può fare in tutto un intorno del punto ok bene quindi questo dilema ci mette un po' sulla buona strada allora vorrei io prima ho catturato la vostra attenzione facendo finta di essere la cambiana però la funzione è venuta bene da finzione però quello che vi voglio far capire quello che vi voglio far capire è che una cosa è studiare un corso per imparare certi risultati il corso il corso dice una cosa e una cosa è imparare un corso studiando e imparando a ragionare per quale motivo questo approccio è superiore immaginate di dover aver bisogno di un altro tutti quanti abbiamo bisogno di un'auto andiamo al concessionario compriamo la nostra auto e spendiamo poco certamente molto meno faticoso che costruirsi dalla sola immaginate di avere tutte le competenze per costruirsi un'auto ci mettete anni invece magari ci metterete dieci anni per riparare tutta questa cosa per procurarvi tutti i pezzi comunque spendete un bel pozzo invece voi andate dal concessionario con lo stipendio magari di un anno o di sei mesi vi comprate la vostra utilitaria e poi gli altri nove anni e mezzo potete divertire con lo stipendio tuttavia c'è una differenza tra essere un utente e basta ed essere qualcuno che ne capisce per esempio di meccanica oppure di la parte elettrica la differenza qual è? è che quando tu hai bisogno di un non ti funziona in qualche cosa allora devi andare dal meccanico dall'elettrauro poi devi andare dal fornitore di pezzi di ricambio perché dice questo pezzi bisogna di un altro cosa diversa è sapere come funziona e quindi saperlo modificare mettiamo che stai in Australia sei partito in Australia ci sono dei tratti di strada che sono 500 km a volte sono 150 km senza vedere anima viva in mezzo al deserto ti si rompa la macchina là voglio te che fare è vero ci sono situazioni estreme normalmente tutti noi però se tu sai come funziona puoi aggiustarla puoi tentare di modificarla puoi fare qualche cosa questo è il concetto cioè voi quello che dovete capire dovete diventare degli artigiani di questa cosa cioè dovete capire come funziona che nel momento in cui capisci come funziona tu non dici ah quale georema devo applicare dici ah ragioniamo qua devo ottenere questo quindi per ottenere questo allora ci arrivi a che cosa devi applicare e se non è esattamente quel teorema ma è qualcosa di vicino a quel teorema quindi questo assomiglia a quella cosa lì allora me l'adatto se voi seguite allora voi fate un esperimento questo corso si sono già fatto tre anni fa quattro anni fa se lo vedete per curiosità andatevi a rivedere diciamo prendete no tutti perché se no ci vorrebbe troppo tempo prendete tre teoremi che faccio quest'anno andate a rivederli quattro anni fa magari almeno su tre ne trovate uno che non è stato fatto esattamente perché io voglio dire i teoremi più famosi dei codici sono quelle quindi la dimostrazione è quella se prendi che ne so il teorema di cosci ma se tu prendi queste cose qua o il teorema permanenza del segno ci sarà sempre qualche piccola virgola che è diversa perché io non me lo sto a ricordare il teorema in maniera tutta precisa così io ogni volta che faccio la dimostrazione prendo la ipotesi e ragiono a volte il ragionamento per quanto è equivalente può seguire una strada leggerissimamente diversa ma del tutto equivalente è chiaro? e questo uno vorrebbe da uno studente vorrebbe che lo studente imparasse a fare questo non c'è la stesura perfetta di un teorema magari uno dice vabbè ma fare questo richiede troppa fatica e poi al di là delle mie competenze può essere anche io quando sulla mia macchina non so riparare tutto assolutamente però quel 5 10% di cose che so riparare ricordatevi sempre il principio di Pareto conoscete il principio di Pareto un principio empirico che vale la pena di conoscere si chiama 80-20 diciamo il 20% delle cose se tu conosci il 20% della conoscenza su un argomento però chiedi l'80% di risultato facciamo un esempio un negozio ha clienti di vario tipo se vai a vedere magari il 20% della miglior clientela gli fornisce l'80% di risultato non è scritto nella pietra magari su un supermercato questo non è vero però Pareto aveva scoperto tuttora viene ritenuto abbastanza valido perché in molte situazioni nel concreto approssimativamente si può ritenere vero quindi nessuno pretende da voi che state studiando ingegneria delle sottigliezze sul teorema di Cantore che magari non so neanche se lo parete la dimostrazione però su queste cose qua che sono basilari cercate di capire le definizioni cercate di applicarle bene e vedrete che imparerete piano piano chiaro? ok adesso vediamo se ci abbiamo una ventina di minuti così ok allora andiamoci a fare un prospetto di illusioni continue allora se io prendo una funzione costante questa funzione è continua x sta in e è continua o quello che noi abbiamo definito la continuità in un punto questa funzione è continua in tutti i punti di e questo discorso vale per tutte le funzioni anche se non fossimo da R in E tutte le funzioni costante sempre come funziona la dimostrazione sia questo è un esercizio x con 0 appartenente a D allora noi abbiamo che f di x meno f di x con 0 in valore assoluto è uguale a L meno L che fa 0 che è sicuramente meno di e l'ho fissato l'epsin non serve perché siccome la funzione è costante quando vado a calcolare questa quantità che dovrebbe essere meno di e è 0 e 0 è quasi meno di quanto e quindi da questa osservazione segue che la mia funzione è continua le funzioni costante sono sempre funzione continua andiamo a prendere questa funzione f di x uguale a x allora io dico che questa funzione è continua vedremo poi che questa funzione è un po' meglio che è continua vedremo che guardate che sarà di classe infinito quando lo vedremo ma comunque è una funzione elipsiziana e se lo vedremo a sto tempo di costante 1 però adesso ci interessa che sia così in tutti i punti di r anche quella la volevo definire su tutto r quindi questa qua la voglio definire su tutto r x appartiene a r allora come funzione osservate che f di x meno f di x con 0 è uguale a x meno x con 0 allora sia y maggiore di 0 esiste un delta che è uguale a y tale che se x meno x con 0 è minore di delta poi qua non ci devo mettere niente perché x con 0 non ci devo mettere x con 0 e ci dovremmo mettere x appartenente a E ma x appartenente a E se stiamo in r quindi è invicito allora f di x meno f di x con 0 che è uguale a x meno x con 0 pure lunga è minore di e che è uguale a 0 se questo è minore di delta lui stesso è minore di delta ma delta è uguale a e quindi è minore di delta quindi è banale cioè la funzione x è ovvio che è continua basta fare la scelta epsilon uguale a delta faccio il grafico questo è il grafico della funzione x allora vedete qua c'è x con 0 qua c'è x con 0 se qua scelgo l'intorno di semiampiezza di epsilon e qua posso scegliere lo stesso la stessa semiampiezza se il punto lo prendo fra te f di x è banale quindi questo è corollario corollario di questi esercizi prendiamo p di x un polinomio definito su r allora p è continuo su tutti i punti di r un polinomio p di x come è fatto p di x è una somma per i che va da 0 chiamiamolo h che va da 0 fino ad n di a con h per x elevato ad h x elevato a 0 per definizione fa 1 ok questo è un polinomio di gradone cioè sarebbe scritto per le stesse sarebbe a con 0 più a con 1x più a con 2x quadro più più a con n x elevato a n allora c'è un polinomio è una somma di monomi ma un monomio che cos'è? non è altro che una potenza intera della x la potenza intera della x è continua perchè il prodotto di un certo numero di o della funzione x ad esempio q x q qua è x per x per x x è una funzione continua x per x per x è una funzione continua poi diciamo ma ci stanno le costanti davanti va bene ma quando lo motivi per una costante le costanti sono continue e rimane rimane siccome tutti i monomi sono continui quando vado a fare la somma la somma è una costante continua un pochino ok corollaio altro corollaio andiamo a fare il rapporto di due polinomi il rapporto di due polinomi si chiama una funzione razionale una funzione razionale l'altra non è che un rapporto di due polinomi questa è definita chi è e dominio è l'insieme degli x tali che q di x è diverso da zero cioè finalmente questa funzione si può definire tranne quando si annulla il termine di due polinomi quando si annulla il termine di due polinomi è un limite in quel punto ma quel punto in partenza non è un punto di due polinomi allora p di x su q di x è continua in tutti i punti i punti di e ad esempio uno su x è continuo e tutto è per meno zero è in zero? non si pone la domanda che non è un punto di due polinomi va bene? va bene? ok però fatto questo noi adesso abbiamo un problema perché vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' prendiamo questa funzione qua f di x uguale a radice di x x maggiore o uguale a zero se vi ricordate il grafico di questa funzione è fatto così è la funzione immersa dalla funzione x qua però solo sui numeri maggiore o uguale a zero sarà una funzione continua? una funzione cioè lo è in verità lo è però noi con quello che abbiamo dimostrato fino adesso non lo possiamo affermare perché questa non è né una somma né un prodotto né un rapporto di funzione con D quindi questa qua è l'inverso di una funzione continua però se io riesco a dimostrare un diorema che mi dice che l'inverso di una funzione continua continua pure lei beh allora magari beh già mai ci sta però per poterlo dimostrare dobbiamo faticare un po' in particolare prima di parlare di funzione immersa sarà opportuno parlare di funzione composta per quale motivo? quindi supponiamo di aver dimostrato che la radice di x è continua allora supponiamo adesso di voler fare la radice di 1 più x quadro sarà continua? si si ma mi servirà per dimostrarlo un altro teorema io so che 1 più x quadro è continuo so che la funzione che ha y associ alla radice di y è continua mi serve un teorema mi serve un teorema che dirà che la composizione di due funzioni continui è continua questo teorema è vero però bisogna dimostrare questo teorema è più facile la dimostrare ok? quindi adesso qual'è il programma? il programma il programma è ah si intanto abbiamo capito che ci stanno insomma fino a che poi magheggio con somma e prodotti e rapporti fino a che si può fare e fino a che le funzioni che usavo erano tutte continue è tutto continuo ecco per esempio andiamo a vedere un altro esempio di funzione continua prima di andare a fare un esempio di funzione continua un esempio di funzione continua ecco questo allora andiamo a fare prendere la funzione seno di x allora facciamo prima un ragionamento per semplicità prendo una funzione definita soprattutto a r così allora prendo f da r in r quindi suppongo che valga valga questa disuguaglianza f di x meno f di y sia sempre meno o uguale di una costante fissa a L per x meno x allora dico dico che f è continua in tutti i punti di r allora dobbiamo verificare che il limite di f di x uguale a f di x con 0 per ogni punto di r e i punti di r sono tutti di accumulazione allora come faccio? dico sia epsilon un numero positivo poi prendo delta uguale epsilon fratto L per esempio se L era 10 lo prendo epsilon 10 se L era 1 bastava epsilon allora se x meno x con 0 è minore di delta le altre condizioni non ce le devo scrivere perché non ci stanno cioè x appartenente a E ma E è che è uguale a epsilon su L che succede? Che quando vado a fare f di x meno f di x con 0 questo è minore di L volte per delta che è uguale a L volte per epsilon su L L e L si cancela per delta una funzione del genere è perfetta è sicuro che è continua vedete? questo ragionamento qui non dipende da x con 0 vedremo che quando questo ragionamento non dipenderà da x con 0 si dirà che la funzione è uniformemente continua ma questo lo vedremo qui in là quando ci servirà quindi una funzione del genere è molto meglio che è continua non sempre è vera questa cosa ci sono funzioni di continuo che non rispettano questa condizione per esempio con la funzione di prima la radice quadrata di x non rispetta questa condizione però se otteniamo questa condizione automaticamente la nostra funzione è continua allora io dico che la funzione seno così come la funzione coseno rispettano questa condizione e quindi sono funzioni di continuo allora proviamo a fare seno di x meno seno di y allora io dico allora io dico che questo è uguale al valore assoluto di due volte coseno di x più y mezzi per seno di x meno y mezzi questa è una formula di crostaveresi poi vi insegnerò non mi sembra di averlo fatto con voi però qua vi insegnerò come ricordarsi la funzione di questa pezza allora 2 seno di x meno allora questo è come se fosse quando studieremo quale derivate questo è il numeratore del rapporto incrementale del seno qua ci deve andare questo pezzo perché è come se fosse il denominatore del rapporto incrementale del seno perché quando un numero è molto piccolo vicino a zero supponete che x e y siano vicini allora x meno y vicino a zero questo si comporta come x meno y mezzi che per due fa x meno y che sarebbe il denominatore del rapporto incrementale e qua ci fa la derivata di seno che vedremo qui dove ci va nel puntamento questo è un modo furbo di ricordarsi le forme di crostaveresi ovviamente non è una dimostrazione della formazione le forme di crostaveresi si dimostrano utilizzando le formule di addizione di seno e di coseno le formule di addizione di seno e coseno le abbiamo ripassate quando abbiamo fatto i numeri complessi comunque è vero quest'uguaglianza quest'uguaglianza la dovreste sapere dalla superiore che dovreste aver fatto il titolo medico se no ci credete e poi imparate come ricordarvela poi vi spiegherò come ricordarla comunque una volta arrivati qua questo è il più piccolo di due volte per il valore assoluto di questo per il valore assoluto di questo allora il primo valore assoluto lo basta dire e lascio solo questo qua per quale motivo? beh perché se nel coseno questo lo ricordate sono compresi tra meno 1 e 1 quindi i valori assoluto sono sicuramente più piccoli quindi il valore assoluto di questo coseno è sicuramente più piccoli se ci metto 1 adesso mi serve un'altra disuguaglianza che quando vado a fare il seno di un qualunque numero espresso di radiano di α il seno di α è questa lunghezza qua α è la lunghezza di questo qua dell'acqua siccome la lunghezza dell'acqua è sempre maggiore della lunghezza della corda sottesa dall'acqua questo è metà dell'acqua e questo è metà della corda che cosa significa? significa che questo è più piccolo di due volte valore assoluto di x meno y come di x il mezzo si può portare fuori e si semplice che il quale è di x cosa abbiamo scoperto? abbiamo scoperto che il seno seno di x meno seno di y f di x meno f di y è meno o uguale di valore assoluto di x meno y rispetto a questa condizione qual'è la costante L? E1 quindi si suol dire che il seno è una funzione Lipschitziana di costante U per adesso non ve lo scrivo qua ve lo scrivo si scrive Lipschitziana dal matematico che per prima non la definito se lo voglio fare col coseno è uguale faccio questo e poi facciamo qua questo è uguale a meno 2 seno di x per y mezzi per seno di x meno y mezzi col valore assoluto qua è vero anche se ci do il valore assoluto cioè coseno di questo meno coseno di questo uguale a meno 2 seno di questo per seno di questo perché se qualcuno ha diciamo adoperato bene cervello prima già qualcuno che abbia fatto lo scientifico non pretendo se qualcuno ha fatto lo scientifico ha capito prima quello che ho detto vedete cosa ci va 2 seno di x meno x mezzi è il denominatore della porta incrementale che ci va qua la derivata di coseno cioè meno seno di x più chiaro? ok ma allora tutto questo è minore o uguale di 2 per il valore assoluto del seno di x meno y mezzi come al solito il valore assoluto di meno 1 fa 1 il valore assoluto di 2 fa 2 porto fuori il valore assoluto di questo è più piccolo di 1 e mi rimane il valore assoluto di questo che come prima è minore o uguale di 2 volte x meno y mezzi che è uguale a x quindi anche il coseno è una funzione liciziana di costante se una funzione ha questa bella proprietà qui è sicuramente continua cosa abbiamo scoperto che la funzione seno è una funzione continua la funzione coseno è una funzione continua e la funzione tangente chi è la tangente seno coseno il rapporto di 2 funzioni continue è continuo dove è definito ovviamente quindi nei punti dove il coseno è diverso da z dove è definito quindi un po' di fatica all'inizio si deve fare però la teoria a questo serve cioè tu adesso ci avevi che erano continui soltanto i polinomi avrei dimostrato adesso puoi usare anche quelli che si chiamano i polinomi di cronometri cioè tutte le combinazioni lineali per esempio seno al cubo di x meno coseno quadro di x è continuo seno al cubo di x meno coseno quadro di x fratto seno alla quarta di x più 1 è continuo x più seno di x è continuo insomma due funzioni continue x più seno di x fratto x quadro più seno alla quarta di x più 1 o più seno alla quarta di x quadro meno 1 più 1 è continuo va beh no là mi serve la forza ok comunque è vero che è continuo è chiaro? quindi per ora noi cosa abbiamo dimostrato? abbiamo dimostrato che sono condite le funzioni 1 x seno all'x e coseno all'x automaticamente sono condite tutte le funzioni che posso fare con le sum prodotti e rapporti e queste funzioni e sono già tante per andare avanti ci serve per esempio altre cose ci serve la funzione e alla x è continua? se è continua e alla x sarà continua con il logaritmo? la risposta sarà sì e sì e così via però per dare queste altre risposte ci serve un altro pezzo di teoria però è teoria che serve perché se non c'è questa teoria tu quello lo dimostri chiaro? bene pausa grazie